Oh potrebbe davvero, potrebbe davvero nascere una sfida infinita tra noi per vedere chi è davvero il king di questo gioco E ciao a tutti ragazzi sono Mattiz e benvenuti finalmente in un nuovissimo video di Fall Guys Oggi siamo con un ospite speciale, aspetta aspetta e non dire niente Scrivete, ah no vabbè tanto lo leggerebbero dal titolo, vabbè volevo fare una cosa fighissima Comunque c'è Capitan Blazer Diciamo che non è proprio il massimo, dopo scriverlo nel titolo puoi chiedere con chi siamo nel video Effettivamente no Comunque siamo con Capitan Blazer su Fall Guys Ma cosa sta succedendo? Cap oggi voglio sfidarti, voglio sfidarti per un 1vs1 in questo gioco per vedere chi, oddio non dico riesce a vincere una partita prima Però chi riesce ad arrivare nella migliore posizione Sei sicuro di volermi sfidare? Che livello sei Cap? Livello 4 ma sono un gran giocatore Ok ok va bene, io sono livello 21 e non ho ancora vinto una partita, mi reputo abbastanza nabbo Quindi oggi potrebbe essere il tuo momento per fare la vittoria Oppure uno dei tantissimi momenti in cui perdo sempre in finale, perché devi sapere che io Sto cercando di mettere un po' di suspense, sto cercando di, insomma, così via Credi che io mi sono quasi rassegnato? Cioè io arrivo, arrivo sempre in finale Cioè se tu vai a vedere i miei ultimi 3 video Non c'è una partita in cui non arrivo in finale E poi, oh perdo, perdo perché mi viene l'ansia, ok? Comunque mi raccomando ricordate di lasciare un bel mi piace per altri video con Cap su Fall Guys Passate anche dal suo canale e proviamo a raggiungere, che ne dici, di 30.000 like per un altro video? Minimo 40, vogliamo 40.000 like 40? Va bene, va bene, accetto la sfida Bene, 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 bene Hit Parade è la prima gara che affronteremo Oh, ci dobbiamo qualificare in questa e almeno nella prima non facciamo brutte figure Sì, ma a me non piace per niente questa mappa E poi io parto sempre in fondo, non si sa per quale magia Vediamo dove sei Allora, dato che sei un po' nabbino, ti ricordo che quello con la freccetta sopra sono io, ok? Quindi se mi vedi sono un bellissimo dog Un po' di partita l'ho capito E ti ho anche trovato, sei la mia destra Aspetta, 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 che non cado Ok, sei dietro di me? Oh yes, ci sono Ok, guarda Considera che sono tra i primi, eh? Eh sì, ho visto, sono dietro di te, esattamente dietro Vai, 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 facciamo vedere a questa lobby chi comanda Facciamo vedere chi sono i campioni E infatti come faccio a comandare sempre? Ok, t'ho superato, t'ho superato Eccoti No, no, cavolo Vai, 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 vai Non c'entra di sballonzolarmi Ok, eccoti No, cavolo, sono più dietro No, 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 arrivo prima di te Non ci credo Non ci credo, non ci credo, Matti mi ha scaraventato via No Mi ha scaraventato via No, come ti ha scaraventato? No, no, recupera, recupera Ce la devi fare, eh? Sì, 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 sì Vai, 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 vai Piano, piano Ok, ce l'ho fatta, sono lo slime Oh, cavolo, sono i martelli qui Ok, io sono davanti all'arrivo e ti sto aspettando Sì, io c'ho un problema Ciao, cap Come va? Buongiorno, Matti Ciao, cap Mi qualifico prima di te Ogni volta io provo a trollare le persone Ma loro si qualificano sempre prima di me Quando faccio queste cose Bene Vabbè, dai, oh Come primo round ci sta Siamo andati bene Che ne dici? Top 50% Cos'è sta cosa? Seconda partita, un'altra gara E questa non è neanche facilissima È molto lunga, te lo dico No, questa è la mia preferita Sì, però sentite Cioè, io ne voglio almeno una Voglio almeno un round In tutta questa partita Perché noi ovviamente Arriveremo in finale In cui c'è una partita squadre Io voglio stare con te E vincere una partita con te Dai, ce la dobbiamo fare Le partite squadre non piacciono Perché di solito i miei compagni Sono sempre problematici Non so Eh, lo so Ma io sono il pro Quarto sempre ultimo Eccolo Io stavolta sono primo però a sinistra Quindi perderò tempo a tornare al centro Via, 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 via Ok, io sono partito ultimo al centro Vediamo chi arriva prima Oh, arrivi prima te ovviamente Ovvio Porca miseria Allora qui No, non ci credo Non ci credo Non ci credo Ma ti faccio lanciare in avanti anch'io Sì, questa diciamo che è una strategia Che molti fanno Farsi lanciare totalmente a caso E puntare sulla Ma da quando l'hanno aggiunto quel martello? No, vabbè Hanno aggiornato le mappe Ok, superato Io ancora non sono riuscito a superare l'elica Per l'elica centrale Mamma mia, mi avevi superato Guardate come vola Guardate quanto è carino quando vola Cap Dai Cap, ti sto aspettando Cap, ma che cosa fai? Basta farti male da solo No, vabbè Non ci voglio credere Ragazzi, questo Questo è Questo è voler perdere la partita Guardalo Oh, ce l'hai fatta Sbrigati, corriamo Che non ce la facciamo Non ce la facciamo Ok A superare l'elica No, vabbè Ma quante cose hanno aggiunto in questa mappa? Cavolo, è vero Ma tutte queste cose qui Vado via Ok, perfetto Ci sono, ci sono Dobbiamo sbrigarci perché abbiamo perso un sacco di pos- No, di nuovo No, no Vai tranquillo Non ero assolutamente io Ah, ok Bene È più conveniente andare al centro in quelli laterali Io vado in quelli laterali perché al centro non sono mai sopravvissuto Neanche una volta No, invece una volta sì Quindi non saprei No, salta Oddio, oddio Sono vivo, non ci credo Oddio Non ci credo Non ci credo Fermi tutti Fermi tutti Non credo Ok, io mi sono Forse qualificato Io ce l'ho fatta, Cap Sì, ma la palazza centrale non mi fa saltare Ok, io ce l'ho fatta ma mi sa che non ci riesci se non arrivi ora No, no, no 27 Oddio, ma sei tu questo Non ci credo 28 Dai, è così Guarda questo che si è buttato Mamma mia, che rischio Che rischio 28esimo penultimo Comunque ci dovrei fare un applauso a tutti gli avversari che hanno perso Che nonostante Cap avesse tipo fatto 300 voli a causa dell'elica Loro sono stati comunque più lenti di lui Complimenti avversari, davvero ce ne vuoi, eh Però io sono stato il primo per un bel po' di tempo Eh sì, è vero Comportamente a caso, completamente in fortuna, però sono stato il primo Questa è di squadra Questa è di squadra Me lo sento Me lo sento Cos'è? Ah, survival, ok Jump club Vabbè, c'è questa cosa che gira e tu non devi farti buttare di sotto Ah sì, sì, sì Molto semplice Ma non mi piace questo Preferisco molto più il clock Ok, ok Ok, dai, ce la possiamo fare Sì, è questo Ah A quale pensavi che fosse? Allora preferisco questo Vabbè, dai Ti perdono solo perché sei livello 4, eh Eh, sì, 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 effettivamente Ma da che parte girano? Perché qui c'è il rischio che mi... Ok Molto easy, molto easy Tranquillo Ok Vabbè, questo è così lento che in realtà puoi anche scappare tipo e non ti raggiunge mai No, è vero Che dici? Sì All'inizio sì Ma te stiamo vicino dove sei Aspetta che ti trovo Eccoti Ciao Matti Ma come si fanno i balletti su questo gioco? Eh, devi usare... Oddio, stai col joystick tu? Sì Eh, con le freccette Con le freccette Guarda, io sto facendo una cosa che non so cos'è No Oh no, 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 no Oh No Oddio Oddio, stavo per cadere di sotto Ok, basta balletti Stavo per cadere di sotto Direi che non è più il momento dei balletti Matti Ma tra poco si sgretola il pavimento? No, quelle sono in finale In questo non si sgretola per niente Nella finale invece cadono i vari pezzetti Fino a quando... Oh cavolo Matti, Matti, Matti Sono morto Attenzione Vai, vai, ce l'hai fatta Mamma mia Come mi sono salvato? No No Matti Oh mamma mia Come ho fatto a salvarmi Non lo so Sto giocando... Mi credi che sto giocando malissimo? Ma proprio male, male, male Ma come ho fatto sei persona ad essere eliminata? C'è proprio scarse comunque Ma scusa, mi stavamo per cadere entrambi Mi stai rendendo in giro Allora, sì, esattamente Oh cavolo Ok, salta, salta Come va? Tutto a posto? Più o meno 11 su 12, ne manca solo uno Perfetto, dai E cadete Non roppete le scatole Via così Cavolo, per ora va veloce Eh, ora dobbiamo stare molto attenti Oh yes Let's go Qualificati C'è da dire la verità Non voglio portare sfiga Ma stiamo giocando molto bene Ma io te lo dico Per essere il livello 4 Direi che non me la cavo malissimo Dai, ragazzi È vero GG per cup Che comunque Nonostante le sue 4 partite totali Su questo gioco Riesce comunque a qualificarsi Non si sa come Facciamo 5, dai 5, dai Ok, vediamo qual è la Oh, questa è la semifinale Come semifinale, di già? Eh, mi sa di sì Sì, sì, sì Questa è la semifinale in block party No, devi schivare gli ostacoli Cavolo Allora, io non voglio spoilerare niente Ma questo non è l'unico video Che abbiamo fatto E io ho avuto qualche difficoltà In questa modalità Non dico altro Non dico altro Matti Hai avuto parecchie difficoltà In questa modalità No, invece qui sono bravo, dai Mi devo concentrare Adesso Sedici eliminati Mamma mia Eh, no Considera qui Possiamo perdere anche tutti Ti non consiglio Alza la visuale Alza Ah, nel senso Ok, ok Sì, perché Vedi Riesci a vedere dove arrivano Sì, sì, sì È vero, è vero Non troppo perché poi ti Ti sbagli, tipo No, no, no Ma guarda questi che mi tengono Guarda questi che mi tengono Anche a me, anche a me Mi stanno tenendo Mannaggia loro Bisogna cercare di stare sempre in movimento Sì, esatto, esatto No, no, non è vero Non è vero Io non sto praticamente mai in movimento Vabbè, mi stai sfidando Va bene E ora tu cadrai E io no Sì, sì Voglio proprio vedere Matti Oh cavolo Di qua, di qua, di qua Perfetto Volevi, volevi trattenermi, eh Io? No Guarda che ti ho visto, eh Guardali, guarda che mi fanno passare Purbetto Vieni di qua Vieni di qua Perfetto Ma già eliminati? No, ok Eliminati Neanche uno, eh Neanche uno Praticamente qui arriveremo tutti alla fine No, ecco Non mi far dire Ci stiamo portando sfiga da soli In sta modalità Sì, esatto Io posso testare zitto perché qui Ok Sono troppo vicino al bordo di là Mamma mia che ansia Che ansia 46 secondi ancora Capisci? 46 secondi di ansia pura Ma scusa, qui non c'è un supplementare Se tutti non vengono eliminati No, qui Qui praticamente finisce Se sei stato eliminato o male Matti, 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 sono eliminato No, no, no No, sono caduto Sono caduto anch'io No, sei caduto davvero? Sì No, io no Mi sono salvato poi però No, sono rimasto da solo No, ce la devo fare Cioè, ti rendi conto Che stiamo facendo la stessa cosa del mio video Lascia stare Lascia stare Comunque, chi è che si è qualificato ora? Chi è il più forte nell'1 vs 1 di Fall Guys? Cavolo Cavolo Però bisognerebbe fare uno sparezzo perché Cioè, adesso, non per spoilerare niente Però, regà Sì, è vero, assurdo Nel mio video vinto io Nel suo video vinto lui Quindi dobbiamo capire chi è veramente il più forte, fatti E mi son qualificato Bravo Ora lo bisognerebbe Oh, potrebbe davvero Potrebbe davvero nascere una sfida infinita tra noi per vedere chi è davvero il king di questo gioco, eh 12 persone in finale? Eh, solo una ha perso? 12 Ci siamo tantissimi Cosa? E qui è... Qui secondo me c'è Fall Mountain Ti ho perso solo io? Sì, prendete Fatemi capire Cioè, scusa un attimo Hai perso soltanto No L'esagono Ma cosa? La stessa cosa Oh cavolo Ok Concentrazione Potrebbe essere finalmente la mia occasione Ce la posso fare Io ti consiglio di stare un po' più in bordi, non un po' col centro perché di solito la gente scava al centro Io ti aspetto Matti E vediamo un po' Sono l'hot dog Vai, 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 vai Vai, oddoghino Ci sta, no, ci sta, ci sta Non mi sta piacendo questa tua Questa tua Non lo so Ok, guardalo, guardalo, guardalo come gli taglio la strada No, me la tagliano loro Matti, rischi, Matti, rischi Mi è piaciuto perché effettivamente Comunque sia, la tua tattica ha funzionato molto Allora, ma ti rendi conto che vuol dire giocare questa modalità in 12? Oh cavolo, sì, effettivamente è un po' un casino 11 persone Matti 11 persone in totale Puoi farla Guarda questo come gliela taglio la strada Vai No, 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 gliela hai tagliata No, te l'ha tagliata lui Matti, te la devi smettere di tagliare le strade alla gente perché secondo me rischi e basta Oh no Due livelli, cavolo Matti potrebbe essere la tua partita Potrebbe essere la tua partita Bisogna recuperare un po' Sì, esatto, ti hai fatti i cavolacci tuoi E non andare a tagliare la strada alla gente che secondo me è sbagliato Fai i saltini, fai i saltini, fai i saltini Saltini tattici Piano, piano, piano Molti sono Matti Eh, lo so qui No, 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 vai via, vai, 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 via No T'ho detto che non va bene Oddio Ok, ho fatto un salto della fortuna Dove vado? Due persone eliminate su undici, Matti E questo qui è il tuo penultimo livello Ce l'hai lui dietro Lui lo elimini, perfetto Grande No Oddio Salvato per miracolo Cinque persone eliminate, Matti Potrebbe essere il tuo livello fortunato Vai dove non ci senti Non verso il centro Non verso il centro Cinque persone Cinque persone eliminate Mamma mia No, 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 no Questo qui no Questo qui no Sì L'ho fatto cadere Grande, Matti Sette persone eliminate Matti Potrebbe essere la tua partita, Matti Non è per gasarti Non lì, non lì, non lì Come ti salvi ora? Non lo so Ho perso No, Matti hai perso Ho perso Non so dove andare Non so dove andare Secondo No 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 Ho vinto sto coso inutile Io non ci credo Ho vinto sto pallino verde Totalmente inutile Sto pallino Io non ci credo Io non ci credo Vedi, vedi Perché io non vinco mai E sono livello 20 Vedi Poteva essere la tua partita Oh, comunque sono a livello 5 Poteva essere la tua partita Io ho 21 Cavolo Non ci credo Sono arrivato secondo Secondo Eh, cavolo Hai sbagliato te Forse dove andare Però No, potevo temporeggiare di più alla fine Se temporeggiavo Mi prendevo quei quattro pezzetti in più Che forse Non lo so Con un po' di fortuna 5 secondi in più 10 secondi più Vincevi Ciao Alessandra Delizzi Grazie mille per aver attivato L'abbonamento leggendario di Mattiz Un bacione Non ci voglio credere Non ci voglio credere Comunque che dire In questo momento Compariranno sullo schermo dei video Che sicuramente non avete visto Cliccate su quello che preferite E noi ci vediamo In quel video 30.000 mi piace Per la rivincita Contro Cup Ciao 30 40 Ah è vero 40 Scusate 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 Scusate